Antonio Maglio è stato il pioniere della riabilitazione del medullo leso in Italia e la storia nasce in modo molto semplice nasce a Palestrina perché il professor Galasso che era un medico un neurologo del consulente dell'Inail perché mio marito era un funzionario anche lui dell'Inail gli disse ma gli andiamo a vedere dei ragazzi che sono paralizzati a Palestrina perché io non riesco a capire che cosa che cosa possano avere diceva bene andiamo sono andati visto i ragazzi e erano paralizzati e Maglio gli disse guarda questa è una lesione del midollo dice questi non cammineranno mai più dice che facciamo dice li lasciamo così a letto per sempre domanda quindi già lo spirito dell'uomo è emerso perché perché si è fatta una domanda molto molto umana dice non possiamo tenerli qui a letto e quindi nacque in lui questo sentimento di poter fare qualche cosa per non solo per questi ragazzi ma per tutti i casi che si potessero se si dovessero poi successivamente ripetere e lui come funzionario dell'Inail andò in direzione dopo dopo aver fatto prima di andare in direzione ha fatto intelligentemente delle ricerche per vedere se in Italia ci fosse stato qualcosa del genere in Italia non c'era assolutamente niente e trovò solo a Londra da Gutmann a Stockman de Vil trovò questo centro dove Gutmann riabilitava i reduci dalla guerra era un neurologo e come tale interveniva nel recupero e poi creò e poi creò questi giochi internazionali perché erano giochi internazionali non olimpiadi e per coloro che volevano partecipare a questa manifestazione ma niente di istituzionalizzato e così per ritornare quindi all'Inail e all'Italia che cosa è successo che alla fine dopo tanti interventi in direzione chi trovò accoglienza di questo progetto ne fu il direttore Martini perché aveva un'esperienza di disabilità in famiglia capì il progetto e così nacque il centro paraplegici di Ostia che si chiamava Villa Marina e fu aperto e inaugurato il primo giugno del 57 Antonio Maglio nell'approccio terapeutico dava la primaria importanza a quello che era l'intervento psicologico perché? perché erano dei potenziali suicidi perché quando una persona passa da uno stato di normalità a uno stato di disabilità sicuramente poi a quell'epoca dobbiamo anche immedesimarci nel momento storico in cui stavamo la persona poteva anche perdere la testa ed era normalissimo e tranne un ragazzo lui mi disse non sono riuscito a salvarlo perché poche cose mi ha detto ma quelle che mi ha detto sicuramente adesso dopo tanto tempo mi fanno capire quanto sia stato per lui importante l'aspetto umano perché lui ha fatto tutto questo io ne sono convinta per un atto di generosità sicuramente oltre al fatto di palestrina è scaturito anche dal dolore che aveva dentro Antonio Maglio della morte del figlio di primo letto un bambino che è morto di meningite a sei anni che gli ha segnato la vita questo lui non me lo ha mai detto però io ne sono profondamente convinta anche perché a pochi giorni dalla morte di mio marito io l'ho visto qui vicino alla scrivania con questa fotografia la stava guardando e stava piangendo io non l'ho guardato però ho capito che il suo animo era proiettato lì quindi voleva soltanto riuscire a fare del bene per distrarsi pure da un dolore troppo forte prima di arrivare allo sport la disabilità non era nella cultura italiana non esisteva non c'era anzi venivano nascosti i ragazzi non veniva detto venivano tra virgolette occultate queste posizioni quindi con il rischio che potevano anche non venire curate adeguatamente magari qualcuno poteva essere recuperato invece non lo era c'era un'esperienza dell'istituto Vaccari che nacque circa nel 40 ha celebrato ora gli 80 anni dove facevano dove recuperavano il cognitivo il bambino con lesioni cerebrali però per il resto non c'era niente c'era qualcosa per i sordi c'era qualcosa per i ciechi e Maglio che cosa ha fatto? Sempre nella ricerca di cui dicevo prima è andato a vedere e ha trovato in Gutman la persona che aveva introdotto questa terapia per recuperare questi ragazzi perché se non c'era cultura di disabilità figuriamoci se poteva esserci quella dello sport e ha visto nella sport terapia la luce per poter ridare altrettanta luce agli occhi di questi ragazzi e ragazze che venivano colpiti o perché nascevano da uno stato di disabilità e per me ha gettato un sasso grandissimo, un enorme sasso, un masso all'epoca perché abbattere le barriere culturali era un'impresa ardua ma secondo me lui non ci ha nemmeno pensato ha preso e ha agito, ha agito di impeto anche se fossero state due o tre persone lui ha ritenuto opportuno salvarle attraverso oltre al processo di riabilitazione l'ultimo atto per lui è stato lo sport perché lo sport sicuramente ridà vita, ridà sogni, è un processo di integrazione fortissimo, è un processo veramente di integrazione fortissimo perché non solo per il ragazzo disabile ma anche per tutta la famiglia che è intorno e che ruota intorno alla persona e quindi se la famiglia sta bene, sta bene nel mondo e quindi stanno bene insieme, mondo e famiglia quindi si crea appunto quell'integrazione globale che dovrebbe essere il progetto di eccellenza per un paese che si vuole definire civile anche lui era uno sportivo perché è stato presidente della squadra di calcio della Triestina perché lui ha vissuto anche per un tempo subito dopo la fine della guerra a Trieste e quindi ha coltivato lì i suoi sogni sportivi quindi sicuramente anche questo è stato diciamo un campanello che ha contribuito a introdurre questa importanza dello sport perché è aggregante perché lui la chiamava coralità come prima dicevo la coralità che si viene a creare tra i ragazzi che sono in campo e tra il campo e la platea che sta osservando le loro prestazioni era un genio io lo definisco un genio perché intanto ha scritto della musica e non conosceva la musica ha cantato una canzone e non sapeva cantare perché era stonato io qui ho un dvd ed è un cd che vi farò avere per cui per fare certe cose certe azioni non si può essere che geni lui sapeva condurre un ospedale lui al centro paraplegici di Ostia non solo era il primario ma era il direttore sanitario era tutto quindi gestiva organizzava insomma questi sono sono meriti e soprattutto gestiva con umanità ma con autorevolezza con con molto amore ma con molta decisione si doveva fare quel la serietà professionale era innanzitutto poi siamo amici poi si gioca poi ci scambiamo le nostre opinioni però quando si sta a sul lavoro, soprattutto sul lavoro, sulla professione del medico, quello per lui era essenziale, non si poteva scherzare. A Ostia lui si è inventato tutto, ha creato tutto lui e io gli chiesi, leggendo qualcosa dei suoi lavori, gli dico, ma scusa Antonio, ma tu questi tutori, tutte queste cose che tu hai inventato, creato, ma non li hai brevettati? Stava facendo la barba proprio in questo bagno qua vicino e mi disse, no, io non li ho brevettati perché sarebbero costati di più alla persona disabile, continuando a farsi la barba proprio così. E io ho insistito, ma dico, tanto non li hai brevettati tu, ma qualcun altro li ha brevettati. Dice, però, sempre così, non sono stato io. Io ho conosciuto Antonio Maglio da sempre perché abitavamo nello stesso palazzo, perché lui mi ha visto crescere e io sapevo chi era lui, lui partiva tutte le mattine alle sette e mezza con la sua macchina e quando andava bene tornava la sera alle nove, se non addirittura la sera successiva. E una mattina io tornavo da Cortina d'Ampezzo, che avevo 38-39 anni, e lui mi vide, tornava, una domenica era, portava a passeggio il suo cane, mi dice, ah Stella, come stai? Dice, accimicchia, come ti sei fatta bella? Eh, dico, beh, professore, si fa quello che si può. E allora? Mi disse, beh, allora, vediamoci, no? E io sono rimasta, ah, perché no, perché io gli dissi, dico, professore, guardi, dico, io sono arrivata a questa mia età, ma non trovo nessuno che sia di mio gradimento, e dissi una frase, che per me non lo so chi me l'ha fatta dire, dico, ma anche se io incontrassi una persona più grande di me, io mi sposerei, ma lungi da me pensare a lui, figuriamoci, e anche perché lui poi aveva una sua compagna, e lui immediatamente prese al volo la cosa e mi disse, dice, allora quando ci vediamo? E io sono rimasta a stravolta, dice, va bene, ti terafono domani mattina. La mattina dopo mi chiamò in banca, perché io lavoravo in banca, e da lì, in un anno e mezzo, massimo due, ci siamo sposati. Questa è la storia. Roma 60 si è arrivati a partire sempre dalla creazione del centro paraplegici di Ostia, di Villa Marina, che come detto nel primo giugno del 57, quindi lui aveva già mutuato l'esperienza di Gutmann, perché Maglio si può assolutamente considerare un allievo di Gutmann, e ha introdotto questa sport terapia nel centro di Ostia, e ha cominciato a balenare, sapeva di questi giochi che erano internazionali, ne parlò con Gutmann, e si mise in testa di poter organizzare queste... No, prima di decidere questo, cominciò a far fare sport agli atleti. Il suo più grande atleta, che è stato, che adesso è deceduto, Roberto Marson, definito da Antonio Maglio come l'atleta più completo che lui abbia mai avuto, e visto i risultati che riusciva ad ottenere da questi ragazzi, impegnandoli nello sport, ne parlò con Gutmann, e Gutmann, di questa sua pazza idea di fare le Olimpiadi, le prime Olimpiadi del 60, e Gutmann dice, ma siamo convinti, insomma, e dice, i tempi non sono, sono brevi, perché dal 57 al 60, tre anni, voi mi insegnate, che insomma, non si può creare una squadra paralimpica, atleti di un certo spessore, che vanno a competere con altre nazionalità, a portarli sul campo. Però lui vinse questa sfida, perché riuscì a creare atleti, che poi all'epoca erano atleti Inail, avevano la maglia Inail, che indossavano, riuscì in tre anni a portare squadra paralimpica nel mondo, perché ha portato nel mondo, si sono svolti a Roma, ma è stata conosciuta nel mondo. E ha avuto così il plauso di Maglio, l'Inail è uscita fuori come istituto, che è riuscito a, in questa, diciamo, titanica impresa, perché io la ritengo un'impresa titanica, e oggi come oggi, con l'esperienza di ieri, e con quella di oggi, io dico che per me una giornalista ha definito questa storia appunto titanica e che Antonio Maglio meriterebbe il Nobel per la pace. La coscienza che io ho oggi di questa sua impresa, sicuramente non l'avevo prima, quindi oggi lo posso affermare con cognizione di causa, veramente di cuore, ecco, con coscienza, perché vedo i ragazzi, vedo come si comportano, vedo la gioia nei loro occhi, e questo non ha, non apprezzo, queste sono le conquiste di civiltà. erano i suoi figli, sicuramente erano i suoi figli, se una persona disabile si ammalava in maniera grave, perché poi lì c'è il problema, c'erano anche all'epoca le piaghe da decubito, e lui si è inventato una medicina, una pomada, che ancora c'è qui la formula, che passava ai ragazzi, e stava lì vicino al letto del paziente, fin tanto che non si rimetteva in piedi, in carrozzina, io dico in piedi, perché per me la normalità è anche parlarne in maniera normale, e lui non andava via, non si assentava, non tornava a casa, ecco perché dicevo, quando vedevo tornare la macchina, e quando non la vedevo, perché si tratteneva presso il centro. A Natale, le feste comandate, le passava con loro, quindi lui si era integrato perfettamente con questo mondo, e per cui voleva, voleva che anche il mondo lo trattasse allo stesso modo. Nella sua affermazione, non possono rimanere in questo letto questi ragazzi, c'è un'affermazione di diritti. Perché devono rimanere lì? Quindi c'è un diritto e un'umanità, che se si accompagna, se l'umanità si accompagna al diritto, al diritto, sicuramente è vincente il pensiero. Quindi era un riferimento, diciamo che era, ed è considerato un riferimento, che non si può cancellare, che non si cancella. Qualcuno, in qualche reparto, visto che tiene l'immagine sua, appesa alla parete. Io ho scritto, che dico, ma dovevo morire, dovevo, non è giusto che sia morto lui, perché lui poteva ancora fare tanto del bene, ai ragazzi, al suo mondo, perché il suo primo amore, e unico amore, sicuramente è stato il mondo della disabilità. Con l'avvento delle regioni, il centro è passato alle ASR, lui ha tentato, in ogni modo, di rimanere al centro, rinunciando anche alla promozione, che gli ha dato dall'INAIL, come sovrintendente medico generale, che lui rifiutò, dice, ma lasciatemi qui al centro, per continuare questa opera, ma chiaramente non gli è stata accolta. Questa, per lui è stato, è stato un trauma, è stato un po' un trauma, perché i suoi ragazzi, erano la sua, erano la sua vita, sì. Li ha seguiti dall'esterno, perché voleva che crescessero, anche da soli, infatti la prima federazione che nacque, fu quella di Marson, la FISA, che era un suo, l'atleta, che abbiamo detto, che è recentemente scomparso, l'atleta più completo, che lui abbia mai avuto. Seguendo le attività, lui non è mai entrato, nel, in queste, in queste attività, perché lui oramai la sua, la sua, come posso dire, la sua missione era, era compiuta, stava alla finestra, e guardava, partecipava, è stato, è entrato poi nella, fondazione Santa Lucia, dove ha creato la, la squadra più scudettata d'Italia, no, lui è stato l'allenatore, il, 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 preparatore atletico, ha fatto di tutto, e infatti la prima squadra, che si è venuta a creare, che poi ha portato competizione, perché quando una squadra raggiunge, alti livelli, chiaramente gli altri, vogliono arrivare pure loro, questa è la competizione sportiva, quindi diciamo che dal di fuori, ha seguito l'attività sportiva, per lui, per lui stare a contatto diretto, cioè curandoli prima, fase acuta, e post acuta, era la vita, la vita completa, perché adesso c'è, c'è lo spaccamento, fase acuta, poi c'è la post acuta, mentre invece, secondo me, la persona dovrebbe essere presa in carico, nel momento in cui, c'è un evento, o di nascita, o un evento traumatico, e portarla fino, fino alla fine dei suoi giorni, questo sarebbe l'ideale, ma spezzettare così, il programma di vita, il percorso di vita, non lo trovo, buono per la persona disabile, perché si viene, ogni volta che si interrompe, deve ricominciare da capo, ritrovare nuovi equilibri, ecco, dobbiamo sempre pensare, che sono soggetti particolari, che vogliamo integrare, ma se spezzettiamo questo percorso, il percorso diventa più lungo, e più difficile, impegnativo, la modernità di Maglio, la base sportiva, è quella, lo sport, è quello, il basket in carrozzina, che buca l'obiettivo, questa è stata sempre la sua convinzione, per poter arrivare alla comunicazione, la base, la base, lui l'ha buttata in tutti i campi, in tutti i campi, nel portare il ragazzo verso l'integrazione, nella comunicazione, e credo, e nella famiglia, perché lui, ha fatto molto, anzi, cose che non facciamo forse noi, noi ora, è quello di educare le famiglie, ad accogliere, e a trattare la persona disabile, ma lui, quando aveva recuperato, soprattutto ragazzi, del sud, li andava a portare, personalmente, a riconsegnare alle famiglie, perché non li volevano più, avevano, si vergognavano, lo sport è vita, per me, lo sport, per queste persone, è vita, perché la cambiano, come gli è stata, gli è stata stravolta, la prima volta, con l'evento, o la nascita, o il trauma, loro poi, la stravolgono, in positivo, dopo, perché lo sport, poi, gli ha inculcato, quella forza, e quella autostima, necessaria, per poter avviare, un percorso, che li ha portati, a questo, all'autostima, perché, alla fin fine, il discorso è di tipo psicologico, arrivare all'autostima, allo sport, ti porta a questo, Antonio Maglio, ha sempre, visto la persona disabile, con normalità, e se la famiglia, vede il ragazzo, che è, sicuro, che è deciso, che ha una sua volontà, che ha riconquistato, la sua autostima, o l'ha, non dico riconquistata, ma ha affermata, l'ha tirata fuori, e anche la famiglia, poi, è costretta, ad accettare l'evidenza, appena, ho cominciato ad entrare, in, in questo mondo, ho fatto, molto umilmente, una, una, richiesta, dico, ma io, come mi devo comportare, perché, certo, è un momento di sconcerto, la persona normale, ce l'ha, questo è evidente, è normale, è normale, e lui mi ha, mi ha risposto, cioè, trattali come se fossero persone normali, aiutali, solo se ti chiedono aiuto, testuali parole, né una di più, e né una di meno. Recentemente, ho trovato una dedica, del maestro Trovaioli, che c'è qui, che ha dedicato, un suo disco, e di Marinacci, che è stato, che ha avuto il premio, a Armstrong, del 1971, che è stato, un ragazzo, che ha avuto un incidente, è stato curato da lui, e pure lui, con una dedica, insomma, appassionata, quindi, sicuramente, tante altre cose, ci saranno qui da scoprire, quindi, penso che sia opportuno, perché non è giusto, che me le, me le goda io, ma devono essere, a beneficio, dei ragazzi, di chi si appassiona, al mondo dello sport, paralimpico, ma anche di coloro, che non, ancora, non si sono avvicinati, e che invece, vogliono avvicinarsi, ho avuto recentemente, l'esperienza, di un ragazzo, che sta, alla scienze motorie, si era appassionato, alla figura, di Maglio, perché aveva letto, qualche, su Wikipedia, cioè, sui siti, e però non trovava documentazione, non trovava niente, lui sta costruendo, sta facendo una tessis, proprio sull'opera, di Antonio Maglio, si è rivolto, alle istituzioni, e alla fine, nessuno gli dice, alla fine, sa chi l'ha mandato da me, il professor Fletzer, che ancora era, al centro paraplegici di Ostia, che lo conosco personalmente, che è un estimatore di Maglio, e lui l'ha mandato da me. Adesso, è mai possibile, se questa documentazione, fosse stata pubblica, e comunque, anche a scienze motorie, che è importantissimo, si creasse una, una divisione, una sezione, dedicata, alla, alla riabilitazione, della persona disabile, che ha avuto un trauma, che poi, che poi domani, possa avviarsi allo sport, a questo sarebbe, io penso, necessario. Il mio sogno, è quello, che alle partite, alle partite, alle manifestazioni sportive, diventino paganti, perché questo, è l'obiettivo finale. Quando ci sarà, che pago, e già le Olimpiadi, le Paralimpiadi del 2012, ci dicono tutto. Grazie a tutti. Grazie a tutti.